il tiro di barella, alto sopra la traversa, settimo minuto, poteva fare molto meglio la conclusione è stata da qui praticamente, insomma aveva spazio, poteva anche andare avanti la conclusione non ha inquadrato la porta, barella contro piede c'è Dunfriss, servilo Dunfriss, eccolo qua Dunfriss, poi palla a centro per l'inserimento di Mkhitaryan, Ceco Mkhitaryan, ancora l'Inter che però riesce con barella a risultare il pallone, Ceco lavora il pallone e poi lo dà al limite dell'area dove Mkhitaryan calcia alto, anche questo poteva fare molto meglio, nel centrocampo ci sono delle voragini, se alminano ogni tanto lascia clamorosi spazi all'Inter, Dunfriss in area di rigore, palla dentro, che poi c'è Per noi, con Calabria che riesce, mi pare Calabria, a mandare in angolo, Ceco va a posizionarsi all'interno dell'area di rigore, il calcio in punizione verrà battuto da Cialanolu, il pallone è già posizionato, il miracolo di Mkhitaryan, il miracolo di Mkhitaryan, il miracolo vero il tiro, la conclusione parata da Mkhitaryan, e poi ancora mette giù Pannori, il sinistro alto di pochissimo, 5, 4, 3, 2, 1, ed è finita! Inter è il finale, successo! Ehi ragazzi, cancellata l'olta, imprezzi per diventare di faa, cancellata l'olta, diventare di faa assurda, ci siamo tornati a pieno, cura crea, grande poppi della minamata, e allora, e allora Paulino! Grazie a tutti! Grazie a tutti!